Allora io ne ho fatte due di cose così. Uno ho tolto l'eredità a tutti i miei figli. Va veramente? Sì, nessuno dei miei figli avrà un euro, ma ho dato a tutti l'opportunità del lavoro. Io sono nato in Uruguay, ho il passaporto uruguaggio, ho il passaporto italiano e avendo lavorato anche in America ho avuto, diciamo, onore scausa, il passaporto americano. Questo mi ha dato il privilegio di poterlo dare a tutti i miei figli. Perché tutti e sei i miei figli hanno tutti il passaporto uruguaggio, il passaporto italiano, il passaporto americano. Cosa vuol dire questo? Che loro possono lavorare in America, in tutto il Mercosur, cioè dall'Argentina al Messico, e in tutta l'Europa. Tutti hanno studiato nelle Ivy Leagues, Stanford, Brown, London School of Economics, Columbia, università che costano un milione di euro per l'educazione di quattro anni. Allora, quando tu dai ai figli qualcosa che già nessuno ha, perché tu li affacci al mondo in cui parlano, inglese, francese, italiano, spagnolo... Cioè vuoi dirmi che avergli lasciato in eredità le opportunità... I figli dei ricchi diventano cretini, ma non sono cretini. Il cervello è un muscolo, è un muscolo. È come andare in palestra. Va allenato. Va allenato. Se vai in palestra e non fai pesi, i muscoli non ci sono. Se tu non studi e non elabori, il cervello si impigrisce. Noi tendiamo all'escionerà, alla maldicenza, alla stupidità, al male, al male. È un esercizio terribile crescere, elevarsi. È una fatica. Io sono orgogliosamente ebreo. Penso che l'antisemitismo non sia un antisemitismo, e lo racconto anche nel film che ho prodotto a Polanski, Tukur, è il fastidio per il pensiero articolato. Noi cresciamo, nelle yeshiva, quando studiamo con il Talmud, la Torah, che di ogni riga, Shammai ha un'opinione, Hillel ne ha un'altra che è contrapposta. E tu, come nelle regole di ermeneutica migliore, a una domanda intelligente rispondi sempre con un'altra domanda, per evitare che la semplificazione della risposta offenda l'intelligenza della domanda. Con questo sistema, tu alleni il cervello a pensare di avere sempre una terza opinione. La terza opinione è contro la semplificazione del pensiero. il populismo, l'imbecillità, la semplificazione. Chiunque ha un pensiero articolato è fastidioso, perché tu mi fai una domanda e io sono abituato a rispondere con un'altra domanda. Devo dire che ascoltare Luca Barbareschi, insomma, dà un modo di capire quanto la cultura, la formazione nella vita sia decisiva. Luca, andiamo... Una cosa che hai detto prima, che è verissima. Io penso di essere una persona mediamente intelligente, ma molto studiosa. Sai cos'è il fastidio e la solitudine? È sentire ancora oggi il pregiudizio, con un sorriso di sufficienza, da chi è appartenuto alla cultura ufficiale. Ma sai che c'è? Posso dirti? Chi se ne frega. Grazie. Grazie. Grazie.